L'evento Accendiamo il Medioevo è un evento del tutto particolare. Quest'anno sono 13 comuni che hanno aderito a questa iniziativa, un'iniziativa in rete tendente alla valorizzazione del patrimonio medievale in questa circostanza della provincia di Pescara. Infatti sono 13 comuni della provincia di Pescara. Ecco, concluderemo il 27 di settembre a Spoltore. Ci sarà la partecipazione di grandissimi personaggi, da Vittorio Sgarbi a Mario Tozzi, da Federico Moccia, a Enrico Vanzina, a Michele Pracido, a Rossana Casale. Insomma, non mi voglio dimenticare nessuno. È un modo per cercare di valorizzare al meglio questo patrimonio, patrimonio medievale che nella nostra regione subisce veramente dei problemi notevoli. L'esempio chiarissimo è la chiusura in questo periodo estivo di San Clemente a Casauri. I turisti sono rimasti sconcertati nel constatare come San Clemente a Casauri sia chiusa. Allora la nostra è un'iniziativa per sollecitare le istituzioni a porre un'attenzione, una grande attenzione a questo patrimonio che può diventare sicuramente un volano per un piccolo settore della nostra economia, delle zone interne oggi molto penalizzate.